Qualità, sicurezza, affidabilità, comfort, aspetti inderogabili che ogni vettura del gruppo FCA deve garantire in qualsiasi condizione. Per questo gli ingegneri e i tecnici di FCA impegnati nella ricerca e nello sviluppo lavorano senza tregua a verifiche, validazioni e prove di fatica, alle latitudini più disparate, sottoponendo le automobili a dure sessioni di testing. L'impegno è davvero incessante perché il mondo dell'auto è in continua evoluzione e si sta dirigendo verso veicoli elettrificati, sempre più connessi e autonomi. Il progresso riguarda da sempre la tecnologia, la cura dei dettagli, il piacere di guida e l'efficienza. La prima stagione della serie FCA What's Behind, sino ad oggi, ha raccontato tutti gli aspetti dello sviluppo del prodotto, con telecamere accese sugli spazi riservati del Dietro le Quinte, per un eccezionale e appassionante reportage che ha coinvolto le donne e gli uomini del gruppo FCA, animati da passione e professionalità e alle prese con sfide quotidiane in tutto il mondo. Nella prossima stagione FCA What's Behind seguirà le trasformazioni che modificheranno la mobilità. Stanno nascendo le auto di domani, sempre più vicine al cliente, tecnologiche ed efficienti. Cambieranno numerosi aspetti dell'approccio al lavoro e dell'ingegnerizzazione e sorgeranno sfide inedite relative alla dinamica di guida e alla sicurezza. Rimarranno invece invariate la passione e la competenza che hanno permesso al gruppo FCA di raggiungere l'eccellenza odierna con i suoi modelli e i suoi marchi, in un'ottica sempre più globale. Nuove sfide, immagini spettacolari di luoghi inaccessibili e l'impegno concreto nella ricerca e nello sviluppo animeranno la seconda stagione. Tutto questo è FCA What's Behind.